Di mani pulita, avevamo scoperto un cancro sociale, la corruzione politica, la politica invece di correggere e di combattere e contrastare il male sociale ha combattuto il magistrato e come se in un ospedale invece di prendersi col tumore te la prendi col medico che scopre il tumore. La Camera oggi ha votato la fiducia al cosiddetto decreto svuota carceri senza ovviamente i vostri voti, cosa pensa di questo provvedimento? Sono 30 anni che ogni 2-3 anni si fa un condono, un indulto, un provvedimento per svuotare le carceri perché sono troppo piene, non è meglio aumentare il numero dei posti letto invece che tenere i criminali fuori dalle carceri, allora se non si fa una riforma strutturale fra due anni ci ritroveremo a punte da capo. La responsabilità dei giudici, il Presidente Monti assicura che la norma verrà corretta, verrà equilibrata se possiamo usare questo termine, lei come la vede? Voglio vedere se ha la forza di far cambiare posizione ai parlamentari e ai partiti che hanno votato invece questa responsabilità. Detto questo noi dell'Italia dei Valori abbiamo presentato e presenteremo un emendamento semplice semplice. La norma che prevede la responsabilità ulteriore dei giudici rispetto a quella che c'è è abrogata perché sappiatelo, la norma sulla responsabilità dei giudici c'è già, sia per dolo che per colpa e c'è già che deve pagare il giudice stesso, oltre che lo Stato che anticipa ma il giudice deve rendere e che quindi questa norma ha solo un significato vendicativo e di intimidazione nei confronti dei giudici. Tutto qui. Sembra si comincia a fare sul serio, oggi pomeriggio si sono visti Cicchitto e Franceschini i capigruppo dei due partiti più importanti rappresentati in Parlamento, non è che l'Italia dei Valori ha di restare fuori dal gioco? Una riforma così importante che attiene all'istituzione, alla Costituzione, alla democrazia, allo Stato di diritto, alla legalità, non si fa nella hall di un albergo, si fa all'interno della Commissione parlamentare in modo che così lo possano vedere tutta, altrimenti il Parlamento che ci sta a fare?